A Chieti i 20 lavoratori della Blue Parking sono con il fiato sospeso in attesa della decisione del TAR che dovrà pronunciarsi sulla sospensiva del provvedimento dell'amministrazione comunale che ha revocato la gestione dei 1.700 parcheggi a pagamento alla società di Alfiero Marco Tullio per grave inadempimento contrattuale ed ha affidato il servizio dal 1 maggio scorso alla Teatreservizi, società in-house del comune. Dal 1 maggio nel capoluogo teatino i parcheggi sono gratuiti. La sentenza del Tribunale amministrativo regionale potrebbe rimettere tutto in ballo. Intanto Blue Parking ha anche avviato altre due cause, una davanti al TAR e l'altra davanti al Tribunale civile per chiedere un risarcimento danni che ammonta 8 milioni e 623 mila euro. Anche il comune a sua volta ha chiesto un risarcimento danni milionario a Blue Parking. L'assessore all'urbanistica, traffico, viabilità e mobilità urbana Mario Colantonio spiega che l'amministrazione non ha alcun obbligo di riassorbire i lavoratori della Blue Parking. I lavoratori della Blue Parking sono inquadrati in una società privata, quindi non è che lavorano per l'amministrazione comunale, così come gli attuali lavoratori della Teatreservizi. Il lavoro purtroppo è un problema per tutti. Chiaramente quello che bisogna capire è che loro attualmente sono incardinati ed assunti dalla Blue Parking, per cui qualsiasi azione di legittimazione loro va fatta nelle serie opportune, ma soprattutto loro hanno diritto alla cassa integrazione, alla mobilità, a tutto ciò che un lavoratore ha diritto nel momento in cui perde il posto di lavoro. Tristemente questa città in altre circostanze e in altri panorami lavorativi, ricordo dalla Burgo, dalla Sixti e tante altre cose, ha subito dei grossi problemi occupazionali anche di grande entità, di centinaia e centinaia di lavoratori. Purtroppo questa è una triste realtà, però noi dobbiamo anche pensare a quelli che sono i servizi da rendere al cittadino. I parcheggi per Chieti sono dei servizi essenziali, quasi per la cittadinanza, perché il parcheggio è, non pensiamo solo al parcheggio qui all'aperto, ci sono, sapete bene, dei parcheggi coperti che hanno una grande appetibilità da parte dei cittadini, perché con un abbonamento mensile togli la macchina da un marciapiede e la parcheggi in un luogo coperto, sicuro e vigilato. Per cui queste sono condizioni che rendono servizi ai cittadini e che purtroppo sono sottoutilizzate. Basta pensare anche a tutto ciò che in questi anni è stato il servizio con la società che gestiva i parcheggi. Prendete in immagine un parcometro che abbiamo a Chieti, basta andare, non spostarsi molto a Francavilla, a Pescara, ma penso anche in paesi di più piccola, di più modesta entità, abbiamo dei parcometri molto più efficientati, che danno la possibilità ormai di pagare con un palmare o addirittura con una carta di credito, con un bancomat, quindi non essere alla ricerca spasmodica dello spiccioletto, della monetina da mettere dentro. Queste situazioni sono state anche fonte di grosse critiche, di lamentere che noi riceviamo quotidianamente anche per un servizio che magari viene un cittadino da fuori, da fuori regione, da fuori città e trova delle situazioni non più compatibili con l'anno 2019, le porte poi del 2020. Fino al 19 maggio i parcheggi sono tutti gratuiti nel capoluogo teatino e intanto, alla luce anche di quello che ci ha detto, come cambierà la situazione? Innanzitutto, di mia conoscenza, che la Teat dei Servizi comunque ha ripreso una sorta di abbonamento a quelli che erano i parcheggi coperti, quindi da via Papa Giovanni al parcheggio della Pierantoni fino anche al parcheggio al di sotto del terminal. Lì sono situazioni da censire, cioè tu devi anche venire a conoscenza di chi parcheggia le macchine in abbonamento. Noi non abbiamo dei tabulati che ci dicono quante macchine una famiglia ha in abbonamento, è tutto un lavoro di ricensimento che bisogna fare, perché un servizio deve essere eseguito, un servizio economicamente importante, anche e soprattutto per i lavoratori, deve essere eseguito nei minimi particolari. Quindi il problema sorge oggi per i parcheggi di superficie, per i quali si troverà subito un sistema di gestione immediata, cioè di gestione che non porterà ad un lungo percorso di gratuità dello stesso parcheggio. Nel frattempo verranno anche efficientati o sostituiti, io non conosco quelle che saranno le scelte industriali della Teat dei Servizi, ma sicuramente la Teat dei Servizi con l'amministratore unico e il direttore, nuovo amministratore unico e il direttore generale dell'azienda, sapranno operare con la massima dirigenza e nell'interesse della loro società che gestiscono e della collettività, ma soprattutto nel rispetto dell'amministrazione che gli ha affidato dei servizi importanti. Con Andrea Berardinelli ci siamo spostati proprio vicino alla Scala Mobile che è chiusa dal 30 aprile. Assessore Colantonio, quando riaprirà? La Scala Mobile è chiaramente un fattore importante per la mobilità della città perché con il funzionamento della Scala Mobile funziona anche il terminal che oggi accoglie tutti i vettori che arrivano da fuori città. La Scala Mobile attualmente è stata consegnata alla Teat dei Servizi con il servizio parcheggi e la Teat dei Servizi ha ottenuto dall'Ustif la voltura all'esercizio per cui oggi la Teat dei Servizi ha un direttore di esercizio autorizzato dall'Ustif e quindi da lunedì inizieranno i corsi di preparazione alle persone che sono addette alla Scala Mobile. Cioè le persone, l'omino che si vedeva dentro la gabbina al di sotto della Scala Mobile prima era legato a un video, a uno schermo e guardava tutte le movimentazioni che avvenivano sulla Scala Mobile ed è incaricato al pronto intervento nel momento in cui la Scala Mobile si ferma o ci siamo in una situazione di pericolo e ha detto al fermo allo stop della Scala Mobile eccetera. È una Scala Mobile che ha le sue vetustà perché comunque se andiamo a ricordare all'inizio del primo mandato dell'amministrazione di primio, quindi stiamo già parlando di nove anni fa questa Scala Mobile ebbe una opera di straordinaria manutenzione furono sostituite tutte le componentistiche legate al traino, al trasporto proprio della Scala Mobile è una Scala Mobile diversa da tante altre perché ha un passo molto lungo c'è una Scala Mobile che ha una lunghezza superiore a tantissime altre scale mobili ha una pendenza particolare per cui il funzionamento è determinato anche da una maggior usura che subisce nel corso del funzionamento e purtroppo questa è anche causa dei fattori che fa sì che molte volte si trovano le rampe ferme in riparazione e in manutenzione. Novità anche per la mobilità in via Asinio Aereo dove si sta intervenendo per risolvere i problemi legati alla nuova buca che si era aperta nei pressi del grande albergo Abruzzo. Ci troviamo in via Asinio Aereo all'assessore Mario Colantonio chiedo al momento la viabilità dopo il passaggio del Giro d'Italia com'è e fino a quando ci sarà questa situazione? La situazione attualmente come vedete è stata ripristinata dopo il Giro d'Italia sono state riposizionate le transenne con i semafori che danno il senso alternato di marcia più che altro per gli autobus è una situazione chiaramente che limita potenzialmente i trasporti pubblici sulla città di Chieti anche se il TPL locale cioè l'azienda della panoramica svolge tutto il suo servizio con i propri mezzi il trasporto invece esterno extraurbano avviene al di sotto del terminal come vedete ora si sta avvicinando un autobus l'autobus arriva su questa posizione controlla se la situazione è libera se segna rosso si deve fermare e aspetta l'altro autobus che arriva dopodiché transita questo chiaramente provoca come vedete qualche secondo di attesa o giustamente il traffico nelle ore di punta si snellisce poco però noi dobbiamo assolutamente ai fini della sicurezza aspettare tutto ciò che serve per camminare in sicurezza su questa strada con questi mezzi ma con altri mezzi che possono entrare in città adesso è stato fatto un solaio sopra quella che era il diametro della buca un solaio più ampio, un solaio armato è stato eseguito dal settore lavori pubblici si sta aspettando materialmente già state erogato il finanziamento di 100.000 euro iniziali per effettuare tutti gli studi e partiranno a breve gli studi geologici per capire cosa sta succedendo qua sotto perché tutta la storia dei cavedi che sono qui sotto sono fermi all'altezza di via Spaventa con questo incrocio con l'edificio del Genio Civile prima del grande albergo Abruzzo cioè riportandoci alla storia di questa città prima del grande albergo Abruzzo c'era una scarpata e c'erano dei canali, dei corridoi aperti spontaneamente dai cittadini dove si andava a prendere l'arenaria ed è un materiale edile che è stato raccolto fino al dopoguerra entravano, prendevano i secchi di arenaria e si sono create delle cavità per secoli qua sotto e queste cavità a 19 metri hanno subito dei consolidamenti dei lavori, sono state messe in sicurezza però possono starci altre cavità tra i 19 metri e i 5 metri di profondità che devono essere studiate attentamente se no questo fenomeno che si è avuto in questa posizione e si era avuta già 4 anni fa in un'altra posizione di questo viale con un diametro di 7 metri una cosa molto ampia legata anche a fenomeni di scorrimento di acque sotterranee dovranno essere sistemate noi ci teniamo affinché tutto avvenga nella massima sicurezza perché il trasporto pubblico ma non solo voi immaginate i camion tutto ciò che passa su questa città dalla distribuzione dei materiali e quant'altro che ha una sollecitazione e bisogna in qualche modo tutelare assolutamente il proseguo cioè questa strada deve rimanere per sempre se no rimaniamo tagliati in due gli esiti che saranno degli studi daranno atto a una successiva progettazione e realizzazioni tecnologiche che permetteranno di mettere in sicurezza questo tratto che vi ripeto è dalla mezzeria di via Spaventa fino a quel tratto di strada e arriva fino su per giù appena dopo il portone del Genio Civile questo è il tratto da studiare dettagliatamente e proprio a proposito di questo tratto in questi giorni è interdetto alle vetture che arrivano per intenderci dall'area del Palazzo di Giustizia ed è di piazza San Giustino i primi giorni abbiamo proprio verificato con le nostre telecamere che alcuni automobilisti non deviavano ma venivano proprio da questo lato quindi commettendo anche una infrazione vuole fare una raccomandazione a chi ci sta seguendo in questo momento abbiamo visto che a parte forse qualche automobilista distratto gli altri hanno capito che devono svoltare in via dei Vezzi assolutamente sì con i giorni chiaramente l'abitudine comincia a consolidarsi e capiscono cosa devono fare per essere in corretta viabilità però io voglio ricordare una cosa la patente viene dotata dopo uno studio e la segnaletica stradale è una segnaletica europea per cui se all'imbocco c'è un divieto assoluto di transito ad esclusione degli autobus urbani vuol dire che tutto il resto ecco per esempio questa vettura che è passata e transitata adesso non può passare perché il rosso da quel lato non scatterà mai può starci fino a stasera ma il rosso rimarrà rosso perché il semaforo che sta in posizione è manovrabile esclusivamente dagli autisti degli autobus della panoramica che hanno un pulsantino un telecomando che permette di cambiare il colore lo stop al semaforo che è impostato